Oh wow Aspetta Andiamo nel condotto che i condotti sono felicchi Ok arrivami No No Con poppy ora libera La situazione inizia a cambiare rapidamente Mentre sta cercando una via d'uscita nella fabbrica Ciao a tutti ragazzi sono Marti VG ed oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi siamo su poppy playtime capitolo 2 Questo capitolo si chiama vola su una ragnatela Quindi banda le ciance, ciance le bande Iniziamo subito let's go Vediamo un po' Ecco qua si sente tutto E' buio Oddio Oddio Che cos'è amici C'è qualcuno Oddio Mammy Long Legs Oddio che era Bella sta pubblicità L'hanno ricatta proprio Come le pubblicità degli anni 90 80 Ancora Wake up Oddio Sì ma questa pubblicità è un pochetto creepy ragazzi Mammy Long Legs Poppy Amica Allora eri tu Sarà bellissimo Eccoci Oddio Siamo partiti dove c'eravamo fermati Oddio Già laggo Perfetto E poi c'è pure la grana Dei film Che figata Oh Ehm No Non possiamo ritornare indietro Questa era chiusa E ci entro Sono un uomo Quindi ci entro C'è qualcuno Uh Huggy Wow Io ho sentito Poppy chiamarmi Io ho paura Sono un uomo Elliot Ludwig Chiusa Mi sa che è il manager Oppure il boss Salve Oh wow Allora Eh Che io faccio questo Che cos'è Oh Ah ho capito Aspetta Sì C'è Spider-Man Pure in sto gioco Huggy waggy Ok basta Scovate le differenze Allora Io voglio entrare In quella porta Ehe Ecco qua Una chiave Prendo subito Oddio L'inventare è bellissimo Sì Oh wow Poppy Cos'è questo Pick up Daisy Ah eccola Sono trofei Devo trovare tutti Trofei Ok Ah e qua c'è una co Bene devo trovare Trovato Andiamo a vedere le cose Ecco qua Playtime Co With so much ambition He rose back up And continue to fulfill His vision For the Playtime Co Toy Factory Ludwig could never be content Leaving a project Unfinished But just how did one man Come to create Such an astounding empire How did he manage to stay determined Even after suffering Such a tragic loss It all began in the faithful year Of 19 Eh Sì Grazie Non volevo sentirmi Tutta la sua vita Allora Io direi di fare così Oh Oh wow Andiamo nel condotto Che i condotti Sono felici Andiamo giù Là c'è una porta Fatemi andare Chiusi Chiusi Ah Oddio Evviva Fai i movimenti E comunque Che faccio Faccio così Direi di sì Ok Devo fare questa cosa Va bene Vai Ecco qua Dove che ho l'andata Dov'è Ah eccola Va bene Devo andare lì Ok Arrivo Arrivo Ecco qua Oh Non fai ridere Va bene Oddio Bello Bene Andiamo Grazie We Eh Poppy Mi fai paura Sono un uomo Anche se sei buona Credo Adesso arrivo io Poppy Pensavo che moriva Oddio Amici Laggo Che succede Ah Che c'è successo Eccomi Game station Questa non è la game station Perché ci sta una porta così Mi sembra tutto brutto Amici Ok Ok Arrivami No 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 Ah La mia mano Oddio Che bello il lag Ciao Oh Non ti avvicinare Pagliaccio Eh sì Voglio andarmene È divertente Credimi No Amica No No grazie No Ma col cavolo che faccio i tuoi giochetti Ma no non ho più una ma Pensavo che mamme arrivava dopo Invece è arrivata adesso Vediamo che cosa siamo in welcome Game station Oh mamma mia quanto è grosso Oh wow Oh delle ragnatele Che vuoi dire a tua discolpa Non è una scusa valida Ah proprio lei dirige il game station Musical memory Oddio Ciao amica come stai Ecco qua che cos'è Questo è musical memory vero Oh no Col cavolo Comunque non la vedo io Quindi Ah bene si accende da solo Ok arrivo Ciao amica come stai